Si può ridurre un fiume così? È quello che si chiede la stazione ornitologica abruzzese che mostra le immagini che state vedendo riprese da un drone del letto del fiume Vomano dove si sta costruendo una centrale idroelettrica. La stazione ornitologica abruzzese il 18 maggio e ieri 9 giugno ha depositato due esposti ai carabinieri forestali rispetto a come vengono condotti i lavori di costruzione della centrale che insiste nel comune di Roseto interventi che si aggiungono alla segnalazione già inviata dalla SOA il 17 febbraio scorso. La documentazione e le immagini, secondo gli ambientalisti, dimostrerebbero la difformità sostanziale tra i lavori in corso rispetto a quelli progettati ed autorizzati nel 2013. Secondo l'Associazione Ambientalista, il Comitato Via della Regione non prese in considerazione gli impatti ambientali rilevanti sull'ecosistema fluviale. Il tutto, sempre secondo la SOA, mentre la qualità delle acque in quel tratto del fiume Vomano, anche per altre forme di pressione esistenti lungo il fiume, è notevolmente peggiorata. A dirlo i dati dell'Arta, che qualificano il Vomano come scadente, a testimonianza del fatto che il fiume è già oltre la propria capacità di sopportare impatti antropici. La centrale idroelettrica sottrarrebbe una larghissima parte della portata del fiume per due chilometri, con ovvie conseguenze su tutti i cicli biologici. Intanto, domani, è convocato il Comitato Via della Regione, che dovrà valutare se l'intervento viene realizzato secondo quanto autorizzato e se gli impatti possono essere maggiori rispetto al progetto approvato nel 2013.